Musica Escrusa la pista del delitto, l'autopsia non avrebbe infatti riscontrato segni di violenza sul corpo di Luca Moretti, il 26enne ritrovato senza vita ad un mese di distanza dalla sua scomparsa in un campo di grano a Policiano, a pochi chilometri dalla sua abitazione a Rigutino. I primi risultati ufficiali dell'esamo autoptico avranno bisogno di tempi ben più lunghi, ma stando alle prime indiscrezioni non emergerebbero segni di traumi riconducibili a violenza e dunque legati all'ipotesi dell'omicidio. L'autopsia è stata svolta questa mattina dall'equipe di medicina legale di Siena, guidata dal dottor Marco Benvenuti, a cui la procura di Arezzo aveva affidato l'incarico. Altri elementi saranno aggiunti dall'esito degli esami tossicologici. Nei primi riscontri, inoltre, la morte del giovane sarebbe avvenuta nella serata della scomparsa, e quindi in quel 26 maggio, quando Luca non ha fatto più ritorno a casa. Esclusa dunque la pista dell'omicidio e adesso era stato da capire cosa sia successo a Luca Moretti e come sia arrivato in quel campo, dove lo scorso venerdì è stato casualmente ritrovato da un agricoltore che stava falciando il terreno. Intanto proseguono senza sosta le indagini portate avanti dai carabinieri su cosa sia successo il giorno della scomparsa. Luca, quel 26 maggio, infatti, era uscito con un amico per poi fare ritorno a Rigutino, attorno alle 17.30, poi il nulla sino al drammatico ritrovamento.